Nessun caso di coronavirus in Abruzzo. Tutti i test effettuati finora, anche quello sull'uomo di San Buceto, che avrebbe cenato col cosiddetto paziente 1, hanno dato esito negativo. La regione però è pronta a far fronte all'emergenza. L'Abruzzo è in continua attenzione, sta monitorando tutta la situazione, c'è un allarmismo generale, è da capire, però devo dire che c'è anche una risposta adeguata nella parte dei nostri presidi ospedalieri, in quanto sta funzionando molto il triage che abbiamo procedurato, secondo le linee guide del Ministero. Il coronavirus ha posto un'attenzione al caso delle emergenze, e quindi tutto ciò che è un percorso di un paziente che può contaminare, e quindi dare dei luoghi adeguati, isolati, dedicati, proprio per curare questo tipo di patologia. Intanto in Italia si è superata quota 150 contagi, e sono morte 4 persone. Le vittime però erano già affette da particolari patologie, e l'incidenza di morte si attesta intorno al 2%. Nessun allarme, secondo gli esperti, nemmeno per quanto riguarda i soggetti portatori del virus, che però sono asintomatici. Gli asintomatici però non sono dei soggetti particolarmente infittanti, sono dei soggetti pericolosi perché non sviluppano sintomi. Il punto è che, se guardate quello che è successo a Codogno, un asintomatico deve avere contagiato un certo numero di persone, e ci sono stati i casi sintomatici a segnalarlo immediatamente. Che cosa voglio dire? Che se noi manteniamo alto il sistema di sorveglianza, noi identificheremo comunque tramite i sintomatici, molto precocemente, i nuclei di diffusione della malattia. A Pescara è stata identificata un'area che si trova in adiacenza al nuovo pronto soccorso, ma esterna all'ospedale, che può tenere attivi due posti letto di persone che debbano stazionare là, in attesa dell'esecuzione del test e delle relative risultanze. Più ci sono tutta un'altra serie di aree di insicurezza che sono state identificate, qualora la simultanea attivazione di più aree fosse necessaria. Per coloro che sono sintomatici e ritengono di essere entrati in contatto con persone malate, c'è l'obbligo dell'isolamento fiduciario domiciliare. Per quelli che invece provengono dal nord Italia e che accusano dei sintomi, questi devono immediatamente mettersi in contatto con l'ASL per sottoporsi all'assistenza sanitaria. Per tutti gli altri casi, l'invito degli esperti è quello di non recarsi autonomamente al pronto soccorso, ma di contattare il proprio medico di famiglia per non intasare le corsie emergenziali. Nel frattempo alcune regioni hanno deciso di blindare i confini a tutti coloro che provengono dai luoghi dove è presente il virus, ma il governo abruzzese non si allinea su questa politica allarmista. Le frontiere sono già state chiuse nella zona rossa e non possono più uscire, quindi questa è una garanzia per i nostri cittadini. Per coloro che sono già usciti e quindi che già risiedono nella nostra regione, c'è anche una responsabilità di ogni cittadino. I primi sintomi loro sanno che devono telefonare al medico di famiglia in questo triage, comunicare la loro situazione, i loro sintomi e poi il medico di famiglia delineare a quello che è il percorso. Intanto per l'emergenza coronavirus, l'Università d'Annunzio di Chieti e Pescara ha deciso di interrompere le attività per due giorni, mentre in quella di Teramo la vita accademica andrà avanti normalmente. Il Tribunale di Lanciano invece rimarrà chiuso per una settimana.